Salve a tutti ragazzi, qui il vostro Giammi94 e benvenuti in questo nuovissimo video, nuovo let's play, di un bel gioco, uno dei giochi miei preferiti, che veramente ragazzi merita tanto, stiamo parlando di Turok. Per chi non conosce Turok è uno sparatutto in prima persona, dove ci troviamo su un'isola dispersa da tutti, l'unica cosa è che su questa isola, a parte dei soldati che ci vogliono uccidere, ci sono anche dei dinosauri, ragazzi bellissimo, i dinosauri, che è variata, andiamo avanti ragazzi. Eccoci qua, mi devo avvisare che ho già iniziato a giocare, quindi dovremmo continuare, ma non sono arrivato tanto lontano ragazzi, non mi preoccupate. Consiglio, usa le granate per fare uscire i nemici allo scoperto. Va bene, quando me le dà, ti sento invengibile, prova una partita a volte il giocatore. No, non sono invengibile, più tendi l'arco, maggiori danni, causerà la freccia. Non lo sapevo, non lo sapevo, eccoci qua ragazzi, stiamo nel comitato di Stacirpan. Un po' la voce ragazzi, ragazzi. Cazzo. Ricordami di non farti mai arrabbiare tu, Rocco. Va bene, ricordatelo pure tu, caro. L'hai raccolto? Che cos'è? Oh, ragazzi, di bene e meglio, doppie pistole. Io sono una bestia, una bestia schifosa. Vai, muoci, corri, e vai avanti con i tuoi. Non me lo dire, prego. Non me lo dire. Bestia! Ok, non mi piace sto suono. Che sta succedendo? Ragazzi, ho paura. No! No, 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 no. scusatemi ragazzi da ieri ieri solo l'ho preso questo gioco ragazzi quindi ancora oh cristo oh cristo oh cristo oh cristo orco orco giuda che bel cagnolino vai via orco giuda quanto è grosso vai via ragazzi ho finito i proiettili va benissimo tranquillo muoviti coglione non pensare di cambiare forse lavoreremo insieme ma non credere che la cosa mi piaccia a me non mi piace ma non pensare di cambiare la luna consiglio dinosauri lancia un razzetto su di loro e poi logicamente non mi fa leggere ricarica l'arma quando l'indicatore lampeggia ma va apri le orecchie nella giungla tutto è visibile dio ragazzi questi consigli mi piacciono tanto eccoci qua allora ragazzi io non credo che faremo un altro paio di missioni e poi dopo ci vediamo nella seconda parte perché non credo che riuscirà a registrare molto tempo credo per 17 minuti forse va benissimo continuiamo noi a giocare mi spiace per la grafica ma sto registrando col tablet lo so che non è un bel vedere ma credetemi scende prima tu soldato con sto cazzo che scendo scendi prima tu forza scendi coglione coglione scendi 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 io scendo tu io non scendo voglio l'arco comunque ragazzi non badate al video perché la grafica lo so che non è tanto bella ma ragazzi guardate vi avviso solo di una cosa che questo gioco merita tantissimo non solo perché lo dico io ma perché veramente la storia è bellissima il gameplay anche e spero che ne facciano di molti altri di questi giochi infatti un altro gioco come questo molto bello lo conosciamo tutti quanti è Far Cry o Cristo che è anche un altro scusate ragazzi un altro bel gioco quello però questo pure veramente merita tanto merita tanto questo gioco basta fai di cose e continuiamo ok o Dino diciamo di no ma che parte andiamo campione vaffanculo che ne so l'individuo è il luogo dello schianto principale va benissimo andiamo di qua eccolo qua oh cazzo dinosauri vado a controllare quello guarda bestia bestia disumana in a car oh Oh, 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 bella mossa, di buf, cazzo e quanti ce ne stanno, ma morite, culo, culo, basta, basta, andate via, ragazzi, madonna, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, su, oh, oh, ehi, qui, guarda, cosa devo guardare, scusatemi, ragazzi, cosa devo guardare, un caricatore, sì, 70, racconto un insurprese invece per giù, basta, andiamoci vicino a quel teschio al gigante, oh, cristo, ragazzi, non mi piace sto suono, non mi piace, via, 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 coglione, deficit, vieni, deficit mentale, vieni con me, acqua, potevo ucciderti e nessuno se ne sarebbe accorto, avrebbero dato la colpa al fuoco, no, non se ne parla, tu non sei, sei un damnato traditore, se fosse un traditore, saresti già morto, se non sei un traditore, perché hai abbandonato la tua unità in Colombia, tu non c'eri, quindi non puoi capire, mio fratello c'era, sì, esatto, Robert Zolaide, ti dice nulla, è morto in quella missione, non come te, mi hai preso e te ne sei andato, renditela con Kane, è il colpevole dell'amore di tuo fratello, me la prendo con tutti e due, merda, cazzo, 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 ma vanno a far culo, no, droga, che c'è, che c'è, che c'è, ti sto, niente di pianto, no, è morto, morto, cazzo, cazzo, cinosaune di merda, all'esito, prima che ne arrimino, andiamo, via, 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 Tisch, madonna viva ancora sei io? no eccoci qua ragazzi qui possiamo arrampicarci sulle liare soffri di vertigini? bene ragazzi noi ci fermiamo qui e per la prima parte per me basta così e ci vediamo alla seconda parte di Turok spero che questo video vi sia piaciuto commentate e iscrivetevi al mio canale mi raccomando e ci vediamo al prossimo video ciao belli